Dalla vita della Beata Stefanina Quainzana, una religiosa domenicana chiamata Sor Paola, era morta a Mantova dopo una lunga vita condotta nell'esercizio delle pioreoiche virtù. Il cadavere di lei portato in chiesa era stato posto in mezzo al coro e mentre, secondo il rito ecclesiastico, ne veniva fatta l'assoluzione, la Beata Stefanina Quainzana, che era legata da stretta amicizia alla defunta, inginocchiata si presso la bara, si posa a raccomandare a Dio con tutto il fervore dell'anima la compianta amica. Quando ecco questa all'improvviso lasciar cadere il crociviso che teneva fra le mani, tendere la sinistra ed afferrando con questa la mano destra della Beata, stringerla con tanta forza da non poterla più svincolare. Per più di un'ora quelle due mani restarono così serrate, durante il qual tempo solo Stefanina sentiva in fondo a soccorre una voce inarticolata che diceva «Soccorretemi, sorella mia! Soccorretemi negli spaventosi supplizi che mi tormentano! Se sapeste la rabbia dei nostri nemici invisibili nell'ora della morte e la severità del giudice che esige il nostro amore, che esamina le nostre più indifferenti operazioni e l'espiazione da farsi prima di giungere alla ricompensa, se sapeste come bisogna essere puri per ottenere la corona immortale! Pregate molto per me, sorella mia! Ponetevi mediatrice fra la giustizia di Dio e gli errori di me meschina! Pregate, pregate e fate penitenza per me, che non posso più aiutarmi! Tutta la comunità rimase stupita a quel fatto, quantunque nessuno intendesse i lamenti della defunta. Finalmente intervenne il superiore che in virtù di santo obbedienza comandò a Sor Paola di lasciare Stefanina. Ubbidì subito la defunta, la sua mano ripiombò inanimata sul feltro. La storia della Beata riferisce che ella fu fedela alla preghiera dell'amica e si diede ad ogni sorta di penitenza e di opere soddisfattorie, finché una nuova rivelazione le fece conoscere che Sor Paola era stata finalmente liberata da quei tormenti ed ammessa la gloria eterna. Grazie a tutti!